Io lascio vuoto l'appartamento, è un monobano al sesto piano, non c'è un bel niente sotto quel tetto, c'è solamente un grande letto che mi serve solamente per l'amore che solo tu sapevi dare a me, ma adesso io lo lascerò perché tu non puoi abitare in un posto così poco familiare, mi hai detto che vorresti avere una casa tanto grande con una stanza con mille cose che se non sono veramente decorose certamente ci vedi male, in poche parole l'appartamento per te è un grande ed è normale che non ti piaccia diventando signora il posto in cui siamo chiusi da ora, ma che invece ti piaceva tanto, quando far l'amore era il nostro quanto, ma adesso io lo lascerò perché tu non puoi abitare in un posto così poco familiare, mi hai detto che rischi a me una casa tanto grande con una stanza con mille cose che se non sono veramente decorose certamente ci vedi male, ci vedi male, ci vedi male, io lascio vuoto l'appartamento E al monovano, al sesto piano, non c'è un bel niente sotto quel tetto, c'è solamente un grande letto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info